C'è un posto dove accadono cose straordinarie tutti i giorni, come fosse una cosa normale, sotto gli occhi di tutti e senza lo stupore di nessuno. Il 5, il 6 e l'8 marzo la gardenia fa qualcosa di speciale. Aiuta l'Aism a sconfiggere la sclerosi multipla che colpisce soprattutto noi donne. Sosteniamo insieme la ricerca scientifica. Solo insieme possiamo trasformare un piccolo gesto in qualcosa di straordinario. Per la festa della donna, vieni in piazza e scegli la tua gardenia. Ti aspettiamo! Grazie a tutti!